No, ma come fai? Una situazione che noi veramente non ci siamo mai, mai, mai trovata. Guarda come ci troviamo, casa c'è l'acqua, tutta merma, canale, sotto tutto è pieno. C'è stata la rottura del ponte, c'è stata prima una rottura dell'argine che ha provocato l'allagamento dell'aria. C'è stata la rottura del ponte, c'è stata la rottura del ponte, c'è stata la rottura del ponte. C'è stata la rottura del ponte, c'è stata la rottura del ponte. C'è stata la rottura del ponte, c'è stata la rottura del ponte. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane, l'Emilia Romagna è una regione in ginocchio per gli stralipamenti di fiumi e torrenti, bilancio tragico di nove morti diversi dispersi nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna. Andiamo subito in collegamento con i nostri inviati, dunque Lisa Dossi di Renews24. Elisa, a te, ieri abbiamo raccontato in diretta di un salvataggio. E noi abbiamo raccontato in diretta di un salvataggio, sì c'è un leggero ritardo come sempre nel segnale. Abbiamo raccontato in diretta di un salvataggio e noi stavamo provando a recarci in una zona, quella di Bagnile, dove di fatto ci sono state due delle tre vittime che la zona di Cesena conta rispetto alle nove complessive in Emilia Romagna. Stavamo provando ad andare a Bagnile, dove appunto c'è stata questa donna che era stata travolta dal fiume trascinata dalla corrente per 20 chilometri, perché lì ancora si evacuano le persone e le si salva dalle case. Sono persone che sono in sicurezza, però di fatto sono ai piani alti ormai da quasi due giorni, da più di un giorno e mezzo. Solo che lungo la strada vi mostriamo quello che sta accadendo, per l'appunto si è creato tutto questo traffico e quindi non riusciamo ancora a raggiungere quella zona. Questi sono i mezzi pesanti che vengono deviati dall'autostrada adriatica. Ieri avrete visto le immagini dell'A14 travolta dal fango, era diventata un vero e proprio fiume, è stata riaperta a tratti, però ricordiamo che i mezzi pesanti ancora non possono transitare e questo è quello che si va a creare nelle strade di campagna e nelle statali tutte intorno. Quindi appunto c'è quest'ampia deviazione di mezzi pesanti e di veicoli che scelgono di percorrere strade alternative, perché davvero il traffico sta andando in tilt, per cercare di raggiungere poi le diverse destinazioni. Tutto mentre appunto la popolazione viene soccorsa, messa al riparo e mentre continua anche l'andirivieni dei volontari. li abbiamo visti passando dai centri abitati, ci sono un sacco di giovani, si sono anche organizzati con dei gruppi WhatsApp che inizialmente contavano poche decine di persone, poi sono diventati gruppi di 400 o 500 persone che si coordinano con il comune in base alle necessità, in base a cosa serve portare alla popolazione. Sia dal punto di vista della prima assistenza, nel frattempo vedete i TIR che continuano davvero a transitare a un flusso infinito. Dicevo questi gruppi di volontari che si coordinano appunto sia per la prima assistenza che per portare anche alle persone soccorse. Aspetta che così mi dicevi, continuano a transitare questi gruppi infiniti, così cerchiamo di raccontarlo anche in diretta quello che succede. Ecco vedete appunto TIR per alimenti, qui insomma mezzi con trasporti logistici, questi sono generi alimentari e naturalmente c'è poi tutta la questione anche di un'economia che viene in parte sospesa e che magari in queste ore di emergenza diciamo non ci si pensa perché si pensa giustamente a mettere in salvo la popolazione però un TIR che viene deviato se ha alimenti freschi chiaramente deve riuscire a muoversi rapidamente ma soprattutto questo sarà immagino per le camere di commercio una questione da affrontare, le ore di lavoro che aumentano, gli autisti che ogni tot si devono fermare, insomma c'è anche proprio l'economia che in questa fase sta subendo una breve paralisi, comunque uno stop o quantomeno una deviazione parliamo di ore e ore di ritardo su queste strade, questo è quello che vi stiamo mostrando. Grazie Elisa, noi magari riusciamo a collegarci fra un po' insieme a te, adesso andiamo prima con le nostre dirette e poi parleremo con gli ospiti che sono nel nostro studio appena arrivati dunque mi dicono che Vittorio è entrocaso, Vittorio sia buono, chiedo conferma, scusate, chiedo conferma allo studio. Mi vedete, mi sentite? Buongiorno, io sono collegato da Faenza, uno dei centri più colpiti di questa alluvione, l'hanno paragonata ad un terremoto e così è, vi facciamo vedere subito, ieri siamo arrivati qua ora l'acqua grazie al cielo sta scendendo, però vedete questa porta che stiamo inquadrando si vede proprio la linea dove è arrivata l'acqua e questo è uno dei tanti quartieri che è stato colpito a Faenza la popolazione di 60.000 abitanti in questo momento sono tra i 1.500 e i 2.000 sfollati che sono stati accolti in quattro centri d'accoglienza di primo aiuto oggi è il giorno in cui si sta cercando di contare i danni, Leonora ora ci spostiamo un attimo, da qui all'operatore vi facciamo vedere anche le persone che stanno entrando per la prima volta nei loro magazzini, nelle loro case perché proprio oggi c'è stata questa possibilità perché l'acqua finalmente del fiume Lamone si è abbassata e quindi da adesso si inizierà a capire effettivamente il disastro che c'è stato, in 36 ore qui è piovuto 300 ml d'acqua in alcuni punti sono arrivate addirittura 500, considerate in una zona dove in un anno piove 1000 ml d'acqua quando diciamo 1000 ml d'acqua bisogna fare il riferimento ad esempio 500 ml d'acqua stiamo parlando di 500 litri su un metro quadrato per cui è arrivato veramente il diluvio ci spostiamo, vi facciamo vedere, qui la situazione è veramente gravissima case, officine, uffici completamente sommersi e vi facciamo vedere perché chiede all'operatore di correre un po' con me proprio per accelerare i tempi questo è il fiume Lamone, uno dei quattro dell'Emilia Romagna che ha rotto gli argini gli argini non ce l'hanno fatta contenere proprio per la potenza che c'è stata dell'acqua è esplosa, ora si è abbassato, lo vedete il fiume però ha rotto sia da un lato sia dall'altro, è uscita l'acqua e quindi ci spostiamo vi facciamo vedere da questo lato qui che cosa è successo allora Vittorio, tu spostati un attimo, io devo dare la linea alla Tangherlini di Ranius24 e arrivo subito da te, va bene? Dammi un attimo, 30 secondi di tempo Laura, buongiorno nome? da Riccione, mi dicono, io non vi vedo per cui eccoci, a te è pronto, mi sentite? eccomi qua sì sì, sei collegata da Riccione allora noi ci stiamo spostando, siamo in movimento in realtà eravamo a Favenza fino a pochissimi istanti fa per documentare il punto in cui Lamone ha rotto gli argini e quindi mostrare quanto l'acqua è arrivata di fatto fino al primo piano degli appartamenti delle case, c'è ancora tutto un letto di fango e anche all'interno delle abitazioni in prossimità del centro e stavamo tentando di arrivare a Lugo perché è un altro comune che al momento sta di fatto andando sott'acqua per le esondazioni del fiume Senio e del fiume Santerno anche la Rocca Estense sta venendo allagata quindi in piano centro quello che stavamo cercando di fare è arrivarci in realtà non ci stiamo riuscendo perché appunto per questi problemi di allagamento tutte le strade e questa è una delle strade che porta a Lugo sono allagate vedete questo è un fiume, ci sono le persone che camminano con gli stivali ma da qui alla in fondo non si può di fatto percorrere a piedi però chiamerei uno degli esponenti della protezione civile che sono qui molto rapidamente vedete quel gommone, intanto ci possiamo spostare ci spiega soltanto che interventi state facendo voi arrivate peraltro da Bologna mi diceva San Giovanni, Persiceto, Bologna che interventi avete fatto con questo gommone? che cosa dovete... abbiamo recuperato persone nelle case che avevano circa un metro e venti, un metro e trenta di acqua al piano terra le abbiamo fatte scendere, caricate e le abbiamo portate qui in salvo all'asciutto con la precedenza bambini e anziani poi dopo quelli più giovani, poi anche gli animali, i cani e quello che c'è qual è lo stato d'animo di queste persone? cosa vi chiedono? sono tendenzialmente anche molto tranquilli non è che ci sono abbattuti è chiaro che non è una bella situazione però hanno reagito bene hanno reagito bene, grazie intanto noi a Fenza abbiamo visto anche persone arrabbiate in realtà che ci dicevano non è possibile che questo accada ancora che gli argini cedano ancora c'è la responsabilità sicuramente anche dell'uomo e persone che invece piangevano nel vedere un panorama desolato un panorama completamente cambiato da questo colore del fango che aveva invaso le loro abitazioni tutti chiedevano magari ai vicini a chi era ancora chiuso, bloccato ai piani alti che non era stato recuperato come sta la mia abitazione come stanno i miei gatti che sono rimasti magari chiusi dentro casa questo è un po' lo scenario anche gli umori delle persone grazie, grazie Laura Laura Tangerlini di Rai News 24 adesso ritorniamo da Vittorio intanto volevo presentare anche i nostri ospiti in studio Michele Pastorello responsabile del centro operativo emergenza della Croce Rossa grazie di essere qui Isabella Pratesi direttrice del programma conservazione del WWF abbiamo la psicologa Antonella Elena Rossi buongiorno buongiorno e poi il ricercatore Ispra Stefano Mariani allora buongiorno a tutti Vittorio scusa se ti avevo preso la linea ma dovevo darmi la mia 24 figurati ti sei spostato è tutta una regione che è stata colpita è tutta una regione cioè mai nella storia è successa una cosa del genere con quattro fiumi che hanno superato gli argini esatto e hanno causato veramente un disastro in mani ancora oggi non siamo capaci capace di fare una conta dei danni ci vorrà del tempo allora questo è il fiume vedete che in questo momento grazie al cielo si è abbassato e ha ripreso il suo livello normale ma quello che è combinato è qui ed è uno dei tanti quartieri di Faenza vedete in questo momento guardate l'acqua dove arriva adesso considerate che ieri era l'altezza dei garage che stiamo inquadrando proprio quando siamo arrivati ieri abbiamo documentato e abbiamo fatto delle foto ora vedete quelle persone lì al primo piano in quella casa lì c'è proprio il segno di dove è arrivata l'acqua cioè non stiamo parlando di garage stiamo parlando che le case al primo piano quindi anche la parte sopraelevate sono state allagate si vede benissimo il segno di dove è arrivata l'acqua in 36 ore cioè considerate che è arrivata una cascata come se si fosse rotta una diga quello che è successo qui è la prima volta a memoria d'uomo che documentiamo una situazione del genere è chiaro parliamo del clima che è mutato e tutto il resto noi ne parliamo tantissimo in questo tempo e bisogna stare molto attenti però effettivamente quello che sta succedendo adesso non è mai successo succedeva una volta ogni 3-4 anni ora invece è una scadenza molto molto ma molto più breve l'altro aspetto qui erano stati già colpiti il 2 di maggio per cui l'acqua e il terreno era saturo e l'acqua non è riuscita a penetrare quindi ogni goccia che è caduta è finita nei fiumi e quei fiumi hanno travolti hanno fatto quello che state vedendo in questo momento vedete oggi sono riusciti a entrare nelle case c'è gente che sta lavorando ci sono molti volontari c'è bisogno di aiuto naturalmente e qui guardate è un intero quartiere guardate quanto è grande guardate quante sono le case soltanto da questo lato qui coinvolte ma poi ci sono quelle che vi abbiamo mostrato prima cioè dall'altra parte e poi alla sinistra del fiume per cui sono 2000 persone che sono coinvolte ora camminiamo in avanti vi facciamo vedere anche il resto che è una situazione davvero terribile l'abbiamo detto prima è come un terremoto però un terremoto d'acqua quello che è successo è pazzesco pazzesco anche a esserci come diceva la pratese in studio giustamente adesso si deve assorbire ovviamente perché poi l'acqua col sole diventa fango certo non ci sono quegli ecosistemi che un tempo aiutavano l'acqua a scolare nel suolo e a ritornare nel letto del fiume è un territorio completamente trasformato esattamente diciamo la situazione è quella che abbiamo sul territorio dell'Emilia Romagna è di un sistema molto antropodizzato con argini che si hanno in parte aiutato a ridurre gli effetti della è un po' quello che vediamo lo stiamo vedendo in diretta in questo collegamento ecco esattamente che cosa è successo aspetta aspetta un attimo Vittorio questo è l'argine che ha ceduto ecco eccolo lì lo faccio vedere sì grazie stiamo proprio vedendo l'argine che ha ceduto che cosa è successo come è stato detto in parte alcuni degli argini erano già compromessi dal precedente evento che c'è stato all'inizio del mese dall'altra parte la presenza degli argini fa sì che l'onda di piena si propaghi in maniera molto più veloce parliamo di un reticolo ideografico molto stretto e quindi è fatto sì che data l'eccezionalità dell'evento quindi si è scaricata come è stato detto un quantitativo di precipitazione molto elevato una situazione arginata onda di piena che si è propagata in maniera molto veloce alcune opere di tamponamento di quelli che erano stati i danni della precedente alluvione di inizio mese erano stati già posti in essere ovviamente data il quantitativo di precipitazione e la situazione che si è verificata da questo punto di vista non sono stati sufficienti per tamponare ulteriormente e in alcuni casi sono stata anche la causa di questa velocità dell'onda di piena ecco per cui fra l'altro adesso ci sarà un lavoro enorme anche da parte vostra intanto l'emergenza com'è quanti dispersi ancora ci sono si contano e come state intervenendo per salvare le persone e portarle via dalle case dove l'acqua ovviamente non si sta rifluire noi come Croce Rossa inserita all'interno ovviamente del sistema della protezione civile nazionale insieme a tutte le altre forze siamo dai primi delle prime ore nella notte che siamo intervenuti oggi abbiamo sul campo 300 uomini circa 300 uomini e 90 mezzi con anche specialisti sull'alluvionale e sul soccorso alluvionale ovviamente dove andiamo ad operare con quello che abbiamo visto prima dei gommoni per arrivare sul ai piani e ambulanze 4x4 perché le zone sono veramente sono veramente ecco allora vediamo un attimo intanto dove c'è il nostro Vittorio Vittorio ce l'ha raccontato bene abbiamo visto proprio la parte di argine che è ceduta dove è arrivato vedete poi l'acqua e l'acqua defluite dall'altra parte creando per assurdo più movimento d'acqua vicino alle abitazioni rispetto a quelle del fiume stesso dunque andiamo da Daniele Angelini sindaca di Riccione buongiorno 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 a voi ecco allora ad oggi qual è l'aggiornamento ci saranno anche oggi delle riunioni di coordinamento per i soccorsi allora Riccione per fortuna la situazione non è stata così drammatica come vedo dalle immagini nel resto della regione e abbiamo avuto sì la cosetta bomba d'acqua nella giornata di martedì che ha bloccato un po' la città e anche i comuni di Mitrofi ma soprattutto con il blocco del con l'allagamento dei sottopassaggi la città è stata paralizzata fra la zona a monte a mare della ferrovia ieri già con l'aiuto anche ti ringrazio tantissimo della colonna mobile della protezione civile arrivata dal Veneto dal resto della regione Emilia Romagna siamo riusciti a liberare i sottopassaggi ne abbiamo ancora un paio chiusi per problemi strutturali degli stessi però la città è già agibile percorribile non abbiamo grossi problemi siamo nella fase successiva che è quella della polizia dello sgombero degli scantinati garage delle abitazioni di grazia scusate posso parlare con lo studio mi date un'informazione questa è dove c'è Maria Grazia adesso in mezzo al fango allora sindaca rimanga collegata giustamente lei dice la nostra zona è stata meno colpita ma le faccio vedere adesso in diretta con un'altra inviata Maria Grazia Sarroco che sta letteralmente in mezzo al fango perché come dicevo prima nel momento in cui l'acqua o defluisce o si trasforma in fango quel fango che poi entra nel garage nelle case ha bisogno di un grande lavoro anche da parte di tanti volontari i cosiddetti angeli del fango per togliere tutta la massa oltre tutti i detriti che vengono sono stati trasportati dall'acqua Maria Grazia sei in diretta? Buongiorno Eleonora buongiorno a tutti ecco noi ci troviamo in uno dei quartieri di Cesena un quartiere particolarmente colpito dall'alluvione siamo a pochi metri dal fiume Savio è difficilissimo camminare qui vi posso assicurare che si fa una gran fatica ma guardate guardate le tante persone che stanno dando una mano a chi purtroppo ha perso tutto perché qui ci sono tantissime abitazioni ci sono dei negozi più a copi avanti c'è un supermercato qualcuno parla di un supermercato a cielo aperto perché qui ci sono dei beni di prima necessità che erano all'interno del supermercato e che con questa bomba d'acqua questa furia dell'acqua sono ora all'esterno noi proviamo adesso ad entrare all'interno di questo negozio negozio dove ci sono tessuti quindi vi lascio immaginare tessuti acqua fango ora appunto si dovrà fare i conti con quello con i danni i danni ingenti guardate il fango questo è praticamente nulla ieri sera questa zona era completamente coperta dall'acqua abbiamo delle immagini in cui si vede la via dove non è possibile assolutamente muoversi la macchina che vi abbiamo mostrato in apertura era una macchina completamente sommersa si rischia si rischia addirittura di cadere però vorrei arrivare fino all'interno per farvi vedere quello che c'è e quello che sta succedendo in questa zona vedete ragazzi sono i tanti volontari che arrivano da ogni parte d'Italia e che stanno aiutando chi purtroppo si trova a dover fare conti con una terribile realtà eccolo qui questo è un negozio di arredamenti un negozio di tessuti e i danni sono davvero ingenti adesso proveremo a parlare anche con la proprietaria di questo negozio porte divelte la furia dell'acqua ha divelto proprio questa porta ed è entrata qui l'acqua guardate quello che c'è tutto è a terra tutto infangato per cui molte cose dovranno essere gettate distrutte non si potrà salvare granché purtroppo però sono persone che hanno voglia di ricominciare ecco mi hanno detto non vogliamo piangerci addosso vogliamo ricominciare vogliamo voltare pagina e vogliamo tornare a vivere è una dolorosa realtà questa una dolorosa realtà per tante persone per gli abitanti di Cesena che hanno già vissuto un momento drammatico alcune settimane fa io proverei ora di avvicinarmi a qualcuno che vive qui e che ci faccia vedere anche ok mentre tu trovi testimonianze chiedo anche a Edoardo Lucarelli Edoardo qui c'è acqua dappertutto li vedete i tettucci delle macchine che a malapena emergono da questo lago sul quale prima si è recato è andato il gommone dei vigili del fuoco per fare un salvataggio tante le persone questa mattina che sono state salvate tratte in salvo dai piani delle loro abitazioni tanti non hanno più acqua non hanno più da mangiare abbiamo visto abbiamo visto a poche centinaia di metri da noi non possiamo spostarci molto perché il segnale è un po' ballerino perché lo stanno utilizzando lo stesso i vigili del fuoco i soccorsi ma al primo piano di quell'abitazione una signora urlava dalla finestra perché la vicina anziana aveva finito dei farmaci delle medicine salvavita quindi abbiamo acquisito il nome dei farmaci che sono stati comunicati alla polizia che si sono recati in una farmacia aperta per cercare di procurare questi farmaci e poi ancora abbiamo visto persone anziane è la cosa più straziante bambini ma soprattutto persone anziane scendere da questi gommoni e non riuscire a connettere dicendo abbiamo perso tutto perché immaginiamo persone che qui hanno vissuto sono nate e queste case le hanno costruite con le loro mani perderle ecco perché tanta gente che ci incontra le onora ci continuo a dire chiedete chiedete diciamo all'esercito a chi può alle istituzioni anche mani che possano aiutarci a tenere quelle pale quelle che stanno tenendo in questi istanti queste persone che stanno cercando di spalare il fango dalle loro abitazioni e dai loro negozi dateci una mano perché abbiamo bisogno di tutto qui la situazione è drammatica perché qui il fiume il montone ha poche centinaia di metri e ha fatto questi danni enormi alle abitazioni ma anche ovviamente a tanti esercizi commerciali e tanta gente ancora è bloccata in casa l'abbiamo vista affacciata alle finestre insomma è davvero una situazione complicata a tanti